Blitz esterno è il secondo successo consecutivo per il volley soverato di coach Barbieri. Superata a domicilio per 3-7-1 la savallese Millennium Brescia. Trascinato dalla canadese Gray, 33 punti, ancora una volta il soverato vince in rimonta. Questa volta dopo aver perso il primo set e dimostra di migliorare di partita in partita. Una vittoria piena su un campo difficile che permette alle calabresi di rientrare in riva all'Oionio con l'intera posta in palio. Coach Mazzola schiera per la savallese Millennium la diagonale Prandi-Vilponen al centro Guidi e Veglia in banda Villani e Deili con libero per l'Angeli. Risponde il soverato di coach Barbieri con pizza segola in regia e la statunitense McCown opposto. Frigo e Bertone coppia centrale, schiacciatrici Dona e Gray con Caforio nel ruolo di libero. Davanti ad una buona presenza di pubblico, con calabresi anche sulle tribune, inizia la partita con le due squadre che dimostrano subito di voler prevalere una sull'altra. Dopo una prima fase di equilibrio, tre punti preziosi per la squadra del presidente Matozzo che sale a quota 5 in classifica. Poco tempo per riposare però perché mercoledì sera si scenderà nuovamente in campo. Al Palascoppa sarà di scena Mondovì che viaggia a punteggio pieno.